e per la gente che ama soltanto te per tutti quei chilometri che ho fatto per te internazionale devi vincere e per la gente che fratelli nerazzurri amici di facebook e instagram buonasera a tutti ragazzi un saluto a tutti gli iscritti al canale e buon mercoledì mercoledì di coppa attenzione attenzione finale di europa league la roma per il secondo anno di fila in finale quindi tanti amici lupacchiotti in fibrillazione dall'altra parte civiglia che noi ci ricordiamo purtroppo amaramente ovviamente perché si è perso però insomma dopo anni comunque quantomeno abbiamo rivissuto la finale di una coppa europea dopo anni quindi con un cammino un po particolare quando invece quest'anno tra andata e ritorno quindi una competizione vera si è approdato alla finale di champions però quindi stasera vedremo la roma di josé murigno detto questo ragazzi detto questo io penso che non ci sia niente di male a chiamarla patteggese diciamo se noi per loro siamo la prescrittese per noi per noi loro da da ieri sono la patteggese perché già due volte che patteggiano la prima volta per non finire in serie c e il patteggiamento di ieri sulla questione vabbè insomma una pagliacciata una pagliacciata a tutti gli effetti per salvarla come al solito perché in altre situazioni insomma vabbè lasciamo perdere dai la solita pagliacciata l'italiana dove gravina le parole di gravina poi le comiche il vomito proprio quindi 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 siccome io voglio arrivare io non voglio arrivare perché la patteggese è stata penalizzata ok che qualcuno l'ultimo video che ho fatto dove dicevo a torino per vincere o comunque per pareggiare anche basta che non si perde col toro perché voglio arrivare con i miei punti lì senza la penalizzazione della patteggese di asciughini allegri che rompeva la fava e diceva che un mese fa che noi si doveva arrivare sesti quindi quello è il motivo ok no diego alcuni ho capito e ognuno la pensa come cazzo vuole ci mancherebbe ma tanti la pensano come me a torino a meno un cazzo di punto lo devi fare noi dobbiamo arrivare lì con i nostri punti belli precisi nei primi quattro quindi saluto la patteggese detto questo ragazzi detto questo è venuta fuori la questione la questione stadio nel 2019 era il 2019 se non ricordo male uscì il rendering o della cattedrale progetto populus o dei degli anelli di milano progetto manica sport quattro anni questo è il quarto siamo date al quarto anno luglio credo giugno luglio facciamo quattro anni e ancora sono lì in ballo a decidere come dovrebbe essere quel progetto quando invece un vincolo il vincolo scattava sul secondo anello al settantesimo anno significa nel 2025 perché l'hanno messo adesso nel 2023 il vincolo come cazzo è che sono stati così in italia è tutto lento in italia è tutto lento ma quando cazzo vogliono loro sono velocissimi sono riusciti a mettere un vincolo ok per non far abbattere san siro voi lo sapete io come la penso io amo san siro io sono cresciuto è a differenza di tanti che parlano non sanno neanche dove cazzo è il miazza io sono cresciuto in quello stadio e adesso ci porto mio figlio in quello stadio io lo amo ma è vecchio è vetusto dobbiamo per forza perché tutto questo casino qua è per portarlo a cento anni di compimento al 2026 le minchie di olimpiadi a milano a questi della gente non gliene frega una minchia avete messo un vincolo sul secondo anello ci dovete far capire quei minchia di sei settori chiusi al terzo anello perché sono ancora chiusi tutti contenti hanno messo il vincolo si abbatte il miazza e cosa si fa perché se lo tieni devi fare un certo tipo di ristrutturazione ma serve intervenire pesantemente tutti i progetti sono belli diamante la galleria tutti però ognuno ha le sue pecche lì nel mea bisogna intervenire pesantemente inter e mila lo sanno perché poi quando ristrutturi tu puoi avere un pensiero di ipotizzare che spendi 800 e in un attimo arrivi a un e4 una cosa costruita ex novo è tutta un'altra cosa non trovi le magagne non vai ad aprire ok a intervenire su una cosa di cento anni quindi sono stati velocissimi a mettere un vincolo per non far abbattere il miazza quindi adesso la palla passa alle società che avevano detto no noi comunque l'inter aveva detto che voleva il progetto populus lì col milan ancora quegli altri siano interessati alla maura adesso voglio capire che cazzo succederà però guardate voi come sono stati veloci velocissimi a mettere un vincolo anche qui fa ridere ma ci sarebbe da piangere perché loro non pensano a uno stadio che presenta sempre più crepe sono girati dei video non è lo stadio che lo stadio che si muove la normalità ma che si muova più del dovuto tant'è che hanno dovuto chiudere sei settori non è la normalità se ci sono quelle crepe che sono girate sul web non è la normalità queste sono le battaglie che io combatto da quanti anni quando cazzo è che sono andato sotto san siro cos'è il 2018 sono almeno cinque anni che ne parlo allora non gliene frega un cazzo tanto san siro si riempie 75 mila sempre sold out non gliene frega una minchia possono aumentare i biglietti pre sarà sempre pieno il record di 12 milioni in cazzo grazie al cazzo e cos'è san siro è diventato di 400 mila persone hanno aumentato frega niente quindi adesso sono proprio curioso siccome di stadio non se ne parlava più siccome è una cosa importante anche a livello di un ipotetico cambio societario sono curioso di capire come si muoveranno sia inter che milan a questo punto detto questo ragazzi per concludere il video allora intanto vi dico di andare a vedere il making of video di tre minuti molto carino perché ci ho dato dentro e il risultato secondo me c'è così vi andate a vedere lì i serpenti come dovevano essere quindi video precedente a questo poi prima di chiudere con ovviamente la finale di istanbul vi volevo dire una bella novità che il 6 giugno il 6 giugno sono stato invitato mi hanno chiamato addirittura prima prima della proda alla finale quindi quando ci siamo sentiti che ancora dovevamo giocare col milan andata e ritorno cavoli 6 giugno però potrebbe essere una data bellissima però nel senso che se dovessimo passare il turno saremmo a quattro giorni dalla finale infatti il ragazzo di radione azzurra si mise a ridere ha detto sì cavoli hai ragione quindi il 6 giugno sono stato invitato a radione azzurra per un'intervista e per un'eventuale collaborazione insomma gli devono spiegare un po di cose quindi questa è una novità carina perché avevo sempre detto che io avevo già partecipato a radione azzurra due o tre interventi telefonici sia con gabriele col borzi borzillo che saluto che colla po de carlo e adesso mi hanno chiamato proprio mi hanno fatto capire che una collaborazione devo capire meglio quando quando sarò lì quindi mi fa molto piacere insomma perché poi questi io sono un tifoso come voi lo dico sempre che si è messo in gioco cioè non è che però insomma parlando di calcio a modo mio con le mie cazzate perché poi mi piace anche riderci e scherzarci con le parodie e tutto arrivare comunque sono sette otto anni che comunque in tv appaio a parlare se non ogni settimana o almeno due volte al mese aiuto e collaboro col canale della curva nord quindi montaggio video live e quant'altro il mio canale comunque va bene perché comunque un bel seguito e mi fa piacere che che sia reciproca la cosa lo lo scambio di 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 affetto anche perché con alcuni ormai penso non lo so mi sembra anche di conoscerli anche se non li ho mai visti e adesso questa cosa vediamo radiofonica insomma vediamo vediamo sempre sempre in ambiente nero azzurro quindi fa molto piacere ecco poi queste sono le cose gratificanti che poi a livello economico c'è solo quello quel poco che predita youtube perché poi altre cose non è che vengono pagate proprio una questione a livello personale a livello dire che riesco a dire la mia sull'inter in varie situazioni e questo mi fa molto piacere spero che faccia piacere anche voi che mi seguite chi da poco e chi da tanto basta ragazzi questo era il video per la finale di istanbul è diventato troppo lungo e faremo un video domani tanto ormai era perché mancano dieci giorni perché oggi è il 31 ci siamo scavalliamo e domani il primo giugno però il video è lungo e quindi domani parleremo della finale di istanbul e vediamo come è andata questa finale della roma e poi aspettando perché adesso se non ricordo male forse proprio il 3 sabato c'è la finale di europa league fiorentina west ham e poi 10 ci siamo noi quindi ci aggiorniamo domani parliamo un attimino di quello che potrà essere istanbul insomma ci sono alcuni che sono colpa all'ottoliere alcuni di noi dico è lascia stare i gufi che quelli la stanno vivendo malissimo loro loro da ancora dieci giorni hanno di ansia perché hanno questo terrore che noi possiamo vincere la champions e quindi questa cosa qui mi fa impazzire a me io lo sto vivendo molto bene ripeto però ci sono tanti interessi con questo volevo parlare e fare un video però ormai a parte tanti interessi che la vivono male tanti interessi che pensano che col pallottoliere tanti alcuni un po più fiduciosi insomma domani faremo un video ad hoc va bene ragazzi condivisione dei video che sono al canale sempre forza intra attivate la campanella e fatevi un giro a vedere com'è che il dieca ancora gli ammolla a disegnare ciao belli